16 novembre 1899, nasce a Roma Carlo Rosselli, teorico del socialismo liberale, fondatore del movimento giustizia e libertà, insieme al fratello Nello e fra i protagonisti dell'antifascismo militante. Dal novembre 1926, il gruppo socialista di Milano, di cui Rosselli fa parte, inizia a organizzare l'espatrio clandestino degli oppositori al regime, fra cui Giuseppe Saragat, Claudio Treves, Pietro Nenni, Alessandro Pertini e Filippo Turati. Per il coinvolgimento nella fuga di Turati, Rosselli è condannato a dieci mesi di arresto e cinque anni di confino a Lipari. Il 27 luglio 1929 riesce a fuggire diretto in Francia. Già nell'agosto nasce a Parigi il movimento giustizia e libertà per iniziativa di Rosselli e di altri fuoriusciti. Il 9 giugno 1937, Nello e Carlo Rosselli vengono assassinati dal gruppo filofascista della Cagoule su mandato del regime italiano.